Il prossimo brano è inserito nel nostro primo album registrato, appunto dieci anni fa Me lo ricordo molto bene quel brano, molto bene Perché? Perché, eh, perché E come mai è questo nitido ricordo? Come mai? Cioè, questo nitido ricordo perché, sapete, quando si registra una canzone si canta più volte una parte, no? Io ho cantato la mia parte di questa canzone 58 volte Ma perché non parlavamo inglese allora? Beh che oggi parlo in inglese Eh, certo che parliamo inglese O parli tu l'inglese? No, no, lo canto, infatti lo canto È una benissima canzone, sempre fa parte della cultura americana Signore e signori, smile